27 giugno di nuovo al manacco di nuovo oroscopo la fortuna sta per arrivare oggi è san cirillo di alessandria due compleanni come sempre quello di fabrizio biggio il conduttore il personaggio televisivo 27 giugno 1974 una grande atleta che ricordiamo ancora con molto affetto 27 giugno 1957 l'azzurra gabriella dorio ed eccoci alla frase che ci porta all'oroscopo nei mestieri degli altri tutti si sentono scaltri ariete parlate chiaramente delle vostre aspettative anche se le vostre parole potrebbero creare tensioni negli altri non preoccupatevene e cercate di fare valere la vostra volontà siete particolarmente agguerriti anche perché il sole è nella vostra costellazione toro inutile cercare conferme almeno per ora non vi verranno date e probabilmente vi chiederanno di fare di più rispetto al solito se studiate preparatevi in maniera molto accurata per sentirvi all'altezza della situazione se lavorate cercate di organizzarvi meglio per snellire i tempi gemelli il vostro bisogno di sentirvi al centro dell'attenzione oggi potrebbe andare incontro a una grossa d'illusione pare che il resto del mondo sia troppo indafferato per fermarsi ad ascoltarvi e allora evitate di insistere con certi atteggiamenti cancro un incontro oggi potrebbe assumere caratteristiche sentimentali inaspettate non permettete che sciocchi pettegolezzi possano interferire nel vostro rapporto sarà opportuno quindi non farne parola con nessuno per non destare invidie nel vostro ambiente leone una vacanza che da tempo desideravate potrebbe essere oggi programmata niente di particolare magari ma solo la possibilità di passeggiare tenendovi per mano con la persona che amate riscoprire le vostre emozioni vi aiuterà a sciogliere ogni intima tensione vergine vi sembrerà che quella persona appena conosciuta abbia solo voglia di esservi rivale ponete la massima attenzione a quel che dite e non lasciatevi andare a nessuna confidenza potrebbe esserci del vero in ciò che temete ma comunque non dramatizzate oltre misura bilancia il clima di tensione non vi abbandonerà molto facilmente un po perché avete la sbania di fare tante cose e non vederne poi i risultati concreti vi riempie di rabbia e di insoddisfazione ma se riuscirete a procedere con calma vedrete che molte situazioni si risolveranno scorpione non è certo perdendo una battaglia che la vostra grinta potrà venire scalfita e se nel corso della giornata qualcosa del genere accadrà ricordatevi che presto ci potrebbe essere una brillante rivincita evitate di diventare arroganti o troppo sicuri di voi nel rapporto con gli altri sagittario cari amici sentite già il clima delle vacanze è molto probabile che molti inizino a entrare nelle agenzie e di viaggi per organizzare qualche breve fine settimana e buttare un occhio sul modo di trascorrere le prime giornate di primavera la vostra voglia di evasione contagia anche la persona che amate capricorno l'aria che tira nel corso della settimana risulta per voi molto congeniale è fatta di momenti pacati ma non noiosi di iniziative che trovano immediato riscontro di opportunità che vi permettono di vagliare con molta calma ogni cosa niente male quindi per tutti voi siate però più determinati acquario cari amici ci dispiace segnalarvi i momenti difficili davvero critici purtroppo i transiti degli astri in generale pretendono da voi una crescita ad ogni livello e che vi piaccia o no dovrete percorrere strade che non saranno semplici o lineari dimostrerete a voi stessi la vostra forza pesci vi sentite molto sereni e sicuri degli affetti che vi circondano avete avuto già nei giorni scorsi dimostrazione d'amore e simpatia e questo clima così caloroso che vi si stringe intorno continuerà ancora per tutta la settimana procede tutto bene quindi vitalità è in continuo aumento grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti